Quanti di noi prima di comprare qualcosa su internet o prima di prenotare una vacanza consultano le recensioni online? Secondo una statistica internazionale, più del 75%, quindi tre persone su quattro prima di comprare leggono e guardano cosa hanno scritto altri compratori. Non solo, il 90% delle scelte è determinata da quello che si è eletto su internet. Ecco perché la sentenza recente del Tribunale di Milano che ha ordinato la chiusura di un sito di recensioni false, realreviews.it, va letta e va considerata con molta attenzione. A innescare questo processo è stata Amazon stesso, che viene danneggiato dalle recensioni che vengono vendute all'asta. È stato ingaggiato un investigatore privato, un agente provocatore, che ha dimostrato quello che già si sapeva, cioè che è possibile mettersi all'asta su internet per fare delle false recensioni. Qual è il premio? Potremmo ottenere la restituzione del prezzo che si è pagato per un bene o in alcuni casi anche il prezzo della vacanza che si è andato a fare attraverso la prenotazione online. Ma qual è il rischio reputazionale che corre il falso recensore, chi si presta a queste pratiche? Il rischio è che il suo nome venga pubblicato su giornali e sui siti. Questo ha chiesto Amazon al giudice di Milano e il Tribunale di Milano si è riservato di decidere in futuro. Ma non è l'unico rischio, questo qua reputazionale, che si corre facendo una falsa recensione. Ci sono dei precedenti penali importanti in Italia. C'è una sentenza del Tribunale di Lecce del 2019 dove una persona è stata condannata a nove mesi per sostituzione di persona, ma c'è anche il precedente del settembre del 2023 quando la procura di New York ha fatto patteggiare medici, avvocati, dentisti, società di noleggio auto che avevano pubblicato sui propri siti delle recensioni false per migliorare la propria reputazione. Viene da chiedersi quanto vale quindi il mercato dei falsi online nel mondo? Una cifra spravventosa, oltre 152 miliardi di dollari. Bene, se gli interessi in ballo sono così importanti, viene da chiedersi come può il normale navigatore, il normale utente, difendersi dalle falsificazioni delle recensioni. Vale un consiglio molto pratico da buon padre di famiglia. Non bisogna considerare le recensioni troppo positive, quali con troppi aggettivi, aulici e dove tutto è bellissimo, irripetibile e sensazionale, e così come è bene scartare le recensioni secondo le quali quel bene o quel servizio è il peggiore, il pessimo che si possa rintracciare online. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.